Allora, meno 63, miele, piccola, caranate, zampone. Caranate, Mediterranea e zampone, pozzoni, ci siete? Caranate e zampone, zampone, pozzoni, ci sei? Andiamo avanti, per la meno 68, Romaniuk e Amoroso, per la meno 68. Sì, no, 68. Alcora, alcolata! Vai, king! Vai, vai, vai! Vai, comanci! Alcora, alquimani! Allora Romani e Amoroso Per la meno 73 Iodice, Camino, primo voto Escortido Live, secondo voto, ripeto, Iodice, Escortido Iodice, Escortido Iodice, Escortido Ultima categoria La più 78 Si portino al podio Lucignano, Bossuoli, primo posto Giglio, Conno, secondo posto D'Amerio, Aversa, terzo posto Ripeto, Lucignano, Giglio, D'Amerio Salite Ok, ci vediamo dopo pranzo Grazie Per i soli in categoria Griscuolo Anna Futurama E Galluzzo Ilaria, il primo Se volete ritirare la medaglia Griscuolo Anna e Galluzzo Ilaria Grazie 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 Grazie! 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 Si portino al podio per le femminili, meno 49, rosse e nere, Di Giacomo, Scampia, primo posto, Averini, Guadagno, secondo posto, Di Chilò, Guadagno, terzo posto, Mauriello, Team La Pietra. Di Petro per la prima azione si portino al podio per la meno 49, femminili, rosse e nere, Di Giacomo, Averini, Niccolò, Mauriello.